pronti con il nuovo viaggio oggi è proprio il primo maggio al manacoroscopo ciao da mauro santo del giorno san giuseppe ovviamente siamo al primo maggio per i compleanni un ex calciatore leonardo monucci è stato anche campione del mondo nato il primo maggio del 1987 e continuiamo con la voce dei purobi facchinetti è nato il primo maggio del 1944 dall'ariete passiamo ai pesci e quindi tutto l'arco del nostro oroscopo prima la frase del giorno perduto sarebbe il tempo in cui non abbiamo vissuto da uomini ariete vi sentite fiacchi e svogliate e avete voglia di tutto fuorché di occuparvi di cose serie invece dovrete sforzarvi di concentrarvi su tutto quanto farete o nei pagherete presto le conseguenze toro buon fiuto in un affare che si concluderà tra breve se un vostro collaboratore mostra riserve cercate di comprenderlo e di convincerlo senza entrare per questo in urto stasera dovrete assolvere ad un impegno preso tempo fa gemelli una certa persona si rifarà viva dopo molto tempo siate diplomatici ma non superficiali perché dietro la sua ricomparsa potrebbero celarsi oscuri motivi di interesse cancro sarete completamente assorbiti dai vostri molti impegni tanto che tirerete tardi senza nemmeno accorgervene scegliete una serata di tutto relax è quanto vi occorre in questo momento leone la giornata trascorrerà apparentemente serena vi trascinerete un senso di profonda insoddisfazione fino a sera quando complice venere accadrà un fatto decisamente sconvolgente vergine state per fare un notevole passo avanti nella carriera giocate con astuzia le vostre carte chi studia approfitti del momento favorevole per dare una sistemata ai propri voti discussioni in famiglia da evitare bilancia quando vi intestardite su una cosa non c'è proprio modo di farvi cambiare idea è vero che siete solitamente dotati di un accume e di un sesto senso infallibili ma siete proprio sicuri anche questa volta scorpione il vostro eros farà scintille a scuola nell'ambiente di lavoro dal macellaio o addirittura al supermercato attenzione agli sguardi ammaliatori potreste fare innamorare chiunque soggettario soliti compiti da sbrigare durante il giorno ma serata piuttosto emozionante e movimentata con possibili incontri decisivi per quanti tre voi sono single non rifiutate un invito capricorno chiunque sia non trattatelo con sufficienza a volte sembrate guardare gli altri con senso di superiorità e questo gioca a sfavore di eventuali collaborazioni diplomazia anche con il vostro partner acquario collocatevi su un piano di parità e vi accorgerete che anche gli altri sapranno stimarvi maggiormente stasera dedicate qualche momento alla cura della vostra persona vi farà subito sentire meglio pesci siete davvero irresistibili oggi come non accadeva da tempo vi divertirete e divertirete chi vi circonda pur portando a termine tutti gli impegni presi serata piacevole da trascorrere con la famiglia grazie 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 a tutti.